E' stata inaugurata a Spinazzola la presenza delle autorità civili e religiose e la nuova filiale della banca di credito cooperativo Appulo Lucana. Il taglio del nastro della storica sede ristrutturata della BCC è il chiaro segnale di crescita dell'istituto bancario. I numeri parlano di un altro anno, il 2024, molto importante per una banca nata dalla fusione della BCC di Spinazzola con la BCC di Oppido Lucano. Qui siamo nel quartier generale di questa banca perché questa banca nasce nel 1955, quindi 70 anni fa, quasi 70 anni, al prossimo ci sono i 70 anni di questa banca perché è nata proprio in questi locali, questo è il nostro quartier generale, per cui poi è stata arricchita con la fusione che abbiamo fatto con la BCC Oppido Lucano, quindi è stata arricchita ancora di più, quindi tra le due banche arriviamo quasi a 135 anni, per cui voglio dire andiamo avanti così. Quest'anno ci vede chiudere con un attivo di circa 280 milioni di euro, un prodotto bancario lordo di 520 milioni di euro, possiamo mandare impieghi verso i clienti per oltre 165 milioni di euro e le nostre piazze, le nostre comunità ci hanno dato fiducia depositando presso le nostre filiali oltre 350 milioni di euro. Sicuramente è così, è un fatto simbolico a quale corrisponde una situazione reale, cioè del grande sviluppo che questa BCC sta avendo sul territorio ed è uno sviluppo dovuto alla fiducia che intercetta presso i propri soci innanzitutto e presso una clientela più ampia. C'è bisogno di banche autenticamente locali e territoriali e sicuramente la BCC di Spinazzola lo è. Una nuova filiale della BCC Apollo Lucana in corso, Umberto I, nel cuore di Spinazzola, è il segnale di crescita anche per l'intero territorio. Non a caso, alla cerimonia di inaugurazione, erano presenti l'assessore regionale Gianni Stea e il presidente della provincia BAT, Bernardo Lodispoto. È un chiaro segno di crescere il territorio perché fa parte anche questo territorio della Puglia e siccome sta crescendo la Puglia, la Puglia cresce insieme ai territori. Questa inaugurazione nuova di questa ristrutturazione di questa banca la conferma che l'istituto bancario è vicino alle piccole imprese, agli artigiani, a coloro che hanno necessità di investire e realizzare. La regione attraverso tutti questi finanziamenti del fondo di coesione darà grande aiuto anche al sistema bancario ma credo che quello cooperativistico sfogge il miglior rapporto con l'utente e con il territorio. La ristrutturazione di questa importante filiale, storica filiale, è il segno della crescita di un'eccellenza, come dicevo prima nel mio intervento. Quindi per noi la BCC Apollo Lucana, che tutti conoscono ancora come la banca di credito cooperativo, e ancora prima la Cassa Rurale Artigiana, che continua a crescere, come ho già avuto modo di dire, in questo mercato fatto di colossi ormai, è il segno di una importante vicinanza e dell'eccellenza del territoriale. Quindi la BCC Apollo Lucana sta crescendo, noi siamo orgogliosi di avercela e saremo sempre al fianco della banca e loro sempre al nostro fianco per far sì che anche la città, anche il territorio, possa godere di queste capacità.